Un grande grazie al nostro maestro Piene Cellaro che è sempre molto sensibile alla solidarietà Ma soprattutto noi siamo molto contenti che Michele è un grande personaggio all'estero ed è una persona semplicissima tra noi La sua orchestra sonoramente, l'associazione musicale ausiliatrice di Turi che ha partecipato a questa serata Al Rotary Club di Turi e Puginiano e soprattutto alla regia di questa serata, Giovanni Paglisano che senza di lui non ci sarebbe stata questa serata Abbiamo provato e preparato la spalla, la prossima volta è bene Buonasera Il 10 aprile del 1979 il maestro Rota ci lasciava e lasciava un vuoto incredibile al mondo musicale ma alla Puglia più degli altri Perché lui già dal 39, pensate era a Barita, è stato dal 37 al secolo scorso, basta parlare Di questo musicista stasera vi faremo ascoltare una parte della sua musica, la parte da film Però nel novecento è una figura unica Grazie a tutti Grazie a tutti